sempre al numero 317 c'è un'espressione della quale non posso privarvi sentite che bella i coniugi danno forma con vari gesti quotidiani a questo spazio teologale in cui si può sperimentare la presenza mistica del signore risorto gli sposi nel loro volersi bene danno danno consistenza realizzano questo spazio collo teologale in cui si può sperimentare la presenza del signore uso un'immagine perché questo vi aiuta meglio a comprendere voi conoscete un luogo che conserva la presenza nelle nostre chiese è il tabernacolo bene provate a pensare carissimi sposi pensare che la vostra realtà di coppia può realizzare questo spazio teologale non è uno spazio d'oro non è uno spazio artistico dove si conserva l'eucaristia è uno spazio teologale in cui si sperimenta la presenza mistica del signore questo significa tentare la strada dell'intimità con il signore che sta con voi essere questo tabernacolo che custodisce la presenza ma non per averlo come una statua immobile come un bel quadro della vostra casa ma per averlo come interlocutore interlocutore nella parola come dicevamo nell'ultima perla che vi ho dato come un gesù che è capace di unificare di illuminare con la sua parola la sua presenza questo concentrarsi degli sposi insieme per dare per sperimentare questa presenza mistica del signore gesù